Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Oggi sono qui per parlarvi di questo controller, del controller Afterglow per Xbox One Come potete vedere è un controller che è dal design molto simile a un controller classico Xbox One Con una variante che ha tutta la plastica trasparente con un led colorato che passa attraverso tutto il controller Questa cosa è molto carina Allora, come potete vedere è un controller ufficiale dell'Xbox One Quindi le cose che possono cambiare da un controller prodotto proprio da Microsoft e uno da Afterglow Alla fine non sono tantissime A parte magari leggermente la struttura che l'ho trovata poco poco più spigolosa A parte questo il controller si presenta veramente bene È veramente un controller che per 50€ a mio parere ne vale la pena Andiamo a vederlo Allora, ovviamente l'ho già tolto io Ho preso anche il controller Elite per potervi far vedere le differenze Scendiamo poco poco più giù Allora, questo è il controller ragazzi Come potete vedere le differenze sono veramente minime Nel senso, come potete vedere il simbolo dell'Xbox One non si illumina Sopra c'è quella tacchettina che indica che il controller ovviamente è acceso Facciamo il contrario che ovviamente così vedete anche illuminato il controller Elite Vabbè, l'Elite ha varie funzioni in più che sapete Gli stick che si possono staccare La croce direzionale che si può staccare Le due varie mappature del controller Le leveti posteriori I grilletti che si possono anch'essi modificare Nel senso, si può far arrivare a metà come si può far arrivare sino in fondo E ovviamente l'impugnatura qui in gomma Che diciamo aumenta la presa sul controller Invece, col controller Afterglue Passiamo una plastica trasparente ovviamente liscia Però alla fine la tenuta è abbastanza buona E come vi ho detto Si possono anche qui ma pare Si possono cambiare i colori Si possono cambiare la tonalità del colore Abbiamo i LB ed RB più bassi come potete vedere Più piccolini Più schiacciati E i grilletti invece RT ed LT Che sono leggermente Ovviamente non si vede molto Vediamo se riesco o no Vabbè, comunque sia sono leggermente più tagliati Nel senso che sembrano più spigolosi in confronto a quelli del controller classico Xbox One Nel raccocci direzionale ci sono vari disegnini che servono a indicare l'aumento di volume e l'abbassamento di volume Qui c'è un tastino come potete vedere Clic cliccolo due volte E che serve a mutare il microfono del controller Vabbè, se ovviamente attaccate un microfono E come potete vedere Qui è presente esclusivamente il buco per l'AUX del jack 3.5 E appena lo giriamo Che questa è la parte diversa Come potete vedere qui c'è Afterglow Che è targato Afterglow Questo controller In più possiamo vedere queste due rotelline Che vi spiegherò successivamente a cosa servono E questo tastino che serve a modificare il colore del joystick Adesso vi faccio vedere come funziona Se cliccate una volta Si accende questa spietta blu E con l'analogico sinistro Potete settare la tonalità del colore Nel senso, scusatemi La potenza del colore Potenza e quanto volete che si illumini eccetera Vi faccio vedere Se voi lo muovete verso qui si spegne Se lo tirate verso qui si accende molto di più Quindi alla fine è una cosa abbastanza carina Si può settare qualsiasi colore Mentre se utilizzate l'analogico destro Vedrete i cambi di colore Come potete vedere Variamo in tutti i tipi di colore Dal blu L'argento Eh sì l'argento L'azzurro Passiamo al verde Giallo Rosso Vabbè se poi Se rimanete a toccare la minima sfaccettatura Potete trovare dei colori bellissimi Viola Vedete qui un colore tipo fiamma Rosso e giallo Viola Se volete più rosso lo mettete così È difficile ragazzi Dovete toccarlo piano piano È veramente difficile Allora vediamo Ce lo facciamo Tipo un rosso così vedete ragazzi È tra il viola e il rosso Vabbè comunque sia Ha delle varie colorazioni Come vi ho detto Potete settare anche l'intensità del colore E alla fine questo joystick è veramente carino Per queste cose Vabbè io lo risetto come era prima Lo volevo rosso ed è difficile Per poi ovviamente bloccare il colore Se lo volete rosso Fate così Vediamo Eccolo qui Dai Vabbè come non detto Vabbè l'ho bloccato Facciamo così va Ok Poi ovviamente qui togliamo il tasto muto Per togliere Per Nellevare il muto al microfono Cliccate due volte questo tastino Dopodiché Passiamo alla parte più interessante Di questo joystick Che a mio parere Non mi sarebbe aspettato Da un controller del genere Già non è Diciamo che è ufficiale Xbox One Però non è prodotto da Microsoft Queste due levette ragazzi Come potete vedere Queste due levette Si possono cliccare Si possono Ovviamente possono ruotare Verso Verso su E verso giù E vi dico soltanto Che hanno la stessa funzione Di questi Di questi stick Per Xbox One Per farvi capire Che un controller Da 50 euro Funge anche da Controller Scaf O controller elite Voi direte Si è una coglionata Sono fatti di merda Però Pensate un pochettino Che Un'idea così È stata fatta Su un controller Da 50 euro E un'idea Legger Ovviamente Non leggermente Fatta decisamente meglio È stata fatta Su un controller Da 150 euro E ovviamente Ufficiale Microsoft 150 euro Per poi I materiali Che sono veramente seri In metallo Eccetera A me Sinceramente Ne valeva la pena Sia per questo Da 50 euro Che alla fine Mi ha fatto scoprire Di avere queste Levetine Queste rotelline Qui che servono Hanno le 6 funzioni Dell'Xbox One E anche per 150 euro Di controller Elite Che è veramente Una bomba Vabbè ragazzi Io vi dico Sto dando Che per 50 euro Io l'avevo prenotato Vi parlo Di Di tre mesi fa L'ho preso ieri E sinceramente Mi trovo Abbastanza bene Un bel controller Ne vale la pena Ha funzioni in più Forse È da migliorare Vabbè Dove ancora provarlo Bene Non l'ho ancora provato Su un FPS Perché io ormai Sono abituato Al controller Elite La croce direzionale È fatta veramente bene Non è proprio a click Come quello di Xbox One Però Almeno è separata E questa cosa Va già bene È possibile Rimappare Queste due rotelline Attraverso le funzioni Dell'accensione ottica Comunque sia Del led Del controller Non mi ricordo Se sono due o tre click Voi ovviamente Tirate sulla rotellina Incomincerà a lampeggiare Guarda ve lo faccio vedere Vediamo se me lo permette Tirate su questa rotellina No non è così Allora Vediamo un attimo Due Tiriamo sulla rotellina Ok Incomincia a lampeggiare E volete dargli L'impulso di A Cliccate A Quindi adesso Questa rotellina Avrà l'impulso A Infatti Mi avvia anche Mi avvia anche La schermata Sulla mia Sulla mia console Vabbè ragazzi Questo è il video Volevo farvi un video Su questo controller Il controller Afterglow Di Xbox One La cosa che Anzi Per una cosa Non sono contento Di questo controller Che come potete vedere Qui dietro Non ha il vano batteria Quindi siete obbligati A collegarlo Col cavo USB Però Alla fine Io sinceramente Gioco quasi sempre Col controller Collegato Perché Perché Non vorrei Che perdesse Ogni tanto il segnale Col wireless E niente ragazzi Questo controller È 50 euro Con cavo Ovviamente USB Che vi daranno Loro E devo dirvi Che se non sbaglio È da 3-4 metri O forse 5 Veramente lungo E Le vetine Posteriori Che possono essere Utilizzate Per dare Varie funzioni Tipo A B X Y O anche Le accoltellate Lo sparo Eccetera 50 euro Ne vale la pena Sì Se lo trovate ancora In negozio Compratevelo Perché è molto bellino E niente ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Presto vi farò un video Su Call of Duty Black Ops 3 Anzi un altro video Perché Sono salito Un altro po' di livello E Sono arrivato al primo prestigio Su PlayStation 4 Su Xbox One Sono ancora Fermo Perché purtroppo Dedico un tempo all'uno Dedico un tempo all'altro È difficile Utilizzare entrambi i controller Soprattutto perché In questo Utilizzo le rete posteriori In quello PS4 Purtroppo Non ho ancora preso Lo scaf Lo prenderò Molto presto Vi farò anche vedere il video Quindi Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito Mi invito a iscrivervi Commentare Mettere mi piace Se ovviamente l'avete apprezzato Noi ci vediamo Alla prossima Quindi Bella raga